Buonasera 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 Un'altra caditoia che era in cima al castello, quindi la tanta acqua e la pressione dell'acqua non hanno fatto saltare il coperchio che era sotto l'asfalto e quindi poi ha creato questo piccolo danno sulla strada principale, sulla provinciale, ma che è stata prontamente sistemata poi dai tecnici della marca Multiservizi, dalle ditte che sono state chiamate e dall'ufficio tecnico comunale e dai vigili, quindi tutto sotto controllo. Avete rimesso tutto nello stato originale delle cose, adesso qui sono diversi però i lavori che dovete affrontare, le vostre strade hanno sempre avuto sicuramente un livello di attenzione massimo, la provincia vi ha risposto un po' ai vostri appelli? Sì, la provincia ha fatto dei lavori importanti perché come avete visto il tratto di strada, quello sul Monte delle Stelle è stato sistemato, abbiamo altri fronti su cui lavoriamo e speriamo che la provincia ci dia una mano importante, poi fra poco, il 31 di ottobre, i sindaci votano di nuovo per la provincia e quindi speriamo che tutto vada per il verso giusto. La viabilità per un comune come quello di Terre Roveresche che deve mettere in comunicazione diversi siti è importante, questo è una cosa sicuramente alla vostra attenzione? È una priorità anche perché noi abbiamo 250 km di strade, tra strade asfaltate e strade bianche e quindi il capitolo di spesa delle strade è un capitolo cospicuo, anche quest'anno abbiamo investito parecchio perché stiamo asfaltando, stiamo continuando con i lavori dell'inverno e poi stiamo preparando il piano delle asfaltature per il prossimo anno, quindi stiamo andando avanti. Parliamo ora della festa che si terrà questo fine settimana davanti all'aeroporto di Fano della Lega Marche perché è sabato il giorno del leader, nonché ministro dell'interno Matteo Salvini, il suo intervento sul palco è previsto alle ore 21, ma non è escluso che come suo stile il leader del Carroccio sia presente anche nel pomeriggio della giornata di sabato per familiarizzare con la festa e i suoi partecipanti sottoponendosi a un inevitabile bagno di folla, dicono i componenti della Lega Provinciale, che questo pomeriggio hanno presentato il programma completo della tre giorni leghista nel parco dell'aeroporto di Fano. Ed ora la morte di William Santorelli che si è spento all'età di 74 anni nella notte scorsa all'ospedale Santa Croce di Fano. Santorelli, presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina dell'Ordine di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha rivestito anche diverse cariche pubbliche ed è stato nominato dal presidente Ciampi, grande ufficiale della Repubblica. Con la sua morte la nostra categoria e l'intera comunità perde un grande uomo ed uno stimatissimo professionista, commenta il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Peso Rubino, Paolo Balestrieri. E' molto difficile in questi momenti trovare le parole giuste per rappresentare la figura di un uomo dotato di grande capacità e competenze. Ha rappresentato, continua Balestrieri, con la sua autorevolezza e senso di appartenenza, l'intera categoria dei ragionieri commercialisti nel momento in cui esisteva ancora la divisione con i dottori commercialisti. La sua lungimiranza, la sua forza e la sua consapevolezza istituzionale hanno contribuito in maniera determinante affinché le due categorie professionali potessero trovare un'unica collocazione in quello che oggi è l'Ordine Unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. I funerali si terranno venerdì alle ore 10.30 nel Duomo di Fano. E dalla famiglia Santorelli, a nome di tutta Fano TV, le più sentite condoglianze. E ora veniamo alle vostre segnalazioni. Partiamo da un cestino, guardiamo insieme e commentiamo insieme le immagini, un cestino stracolmo e strabordante di immondizia varia lungo la passeggiata del Lisippo. Una brutta immagine per un bellissimo posto frequentato da cittadini e da turisti. Speriamo che chi di dovere ponga rimedio subito a questo scempio. Questo è il commento del reporte di strada che ci ha inviato la foto. Ma girando lo sguardo dall'altra parte non si gode di un paesaggio migliore. Guardate voi le immagini, voi stessi le conoscete, basta andare sulla passeggiata del Lisippo, lato monte. E quindi il lato opposto del mare, per avere questa visuale poco piacevole della zona di un'area, che da diverso tempo è in queste condizioni e che puntualmente ci segnalate con foto e segnalazioni. Chi ha inviato queste immagini alla nostra redazione pone anche una domanda molto esplicita e anche provocatoria. Al tempo stesso gli amministratori di Fano non si vergognano di presentare ai turisti una schifezza del genere. Ebbene, cambiamo argomento. Andiamo e parliamo di stagione estiva e operatori balneari, anche se ormai la pratica mare è archiviata. Però l'Oasi Confartigianato, l'associazione di categoria, fa risaltare una situazione quanto mai paradossale che il Comune di Fano ha fatto pagare per dei cartelli che non dovrebbero essere pagati come tali agli operatori commerciali. Una situazione che è venuta a galla da poco. Sentiamo le parole. Abbiamo scoperto in questi giorni che il Comune ha soggettato all'imposta sulla pubblicità dei cartelli, considerandoli come insegni di esercizio, ma insegni di esercizio non sono, perché sono dei cartelli che riassumono il contenuto del regolamento del maniale comunale, perché questa ordinanza è scritta molto fina e quindi gli operatori per dare un servizio ai bagnanti l'hanno riassunto ingrandendo i caratteri e la fidataria del Comune di Fano considera invece questi cartelli come insegni di esercizio. Nel caso di che trattasi, guarda caso, purtroppo questi cartelli sono decisivi nel far superare la franchigia dei 5 metri quadrati sopra la quale gli operatori debbono pagare l'imposta sulla pubblicità, perché se questi cartelli fossero considerati degli avvisi, fossero stati considerati degli avvisi e non delle insegne di esercizio, in questo caso l'operatore non avrebbe pagato nulla. Poi c'è un altro caso, un altro operatore di Torretti Ponte Sasso che ha affisso un cartello per dire ai bagnanti che il parcheggio è riservato a quello stabilimento a balneare, anche questo non è un insegno di esercizio. Poi magari l'affidataria fa riferimento a dei cavili di legge, ma noi riteniamo come osico un fartigianato che bisogna senza meno usare il buonsenso e quindi noi ci attendiamo che l'amministrazione comunale intervenga presso l'affidataria anche perché altrimenti noi dovremo organizzarci e quindi se questo problema non sarà risolto noi daremo disposizione agli operatori balneari il prossimo anno di oscurare tutte le insegne inutili e di fare in modo che tutti gli stamenti balneari rientrino nei cinque metri quadrati e quindi a quel punto non ci sarà più gettito per l'amministrazione comunale. Bene, questa era la voce dell'associazione di categoria Oasi con fartigianato, ma adesso occupiamoci di un luogo conosciutissimo che un tempo adesso lo utilizziamo come parcheggio per andare in centro nel mercato o per le manifestazioni, ma un tempo era una gloriosa caserma delle nostre forze armate. Sto parlando della caserma Paolini frequentata in quegli anni da migliaia e migliaia di ragazzi italiani per il servizio di leva. Ebbene, torna per il secondo anno una dunata speciale per chi in quel periodo ha passato uno spicchio della sua vita. Vediamo. solo chi l'ha passata può comprendere i termini naia, leva, burba, spina, nonno e cubo. Solo chi ha fatto il servizio di leva obbligatorio sa che i legami di amicizie e fratellanza che si sono creati sotto il militare sono legami a vita e che oltrepassano sia il tempo che le distanze. Ed anche se allora certi luoghi come le caserme, compresa quella di Fano, erano luoghi alle volte detestati dai commilitoni, con la maturità la nostalgia di rivivere quei luoghi che riportano alla giovinezza e dai 18 anni è più forte magari per rivedersi anche dopo 40 anni ed oltre, per vedere come è andata, se si è formata una famiglia, se i sogni sbandierati tra commilitoni sotto le pungenti coperte di lana sono diventate poi realtà. Con questo spirito lo scorso anno Luca Valentini, Silvano Clapis e Luciano Cecchini diedero vita al primo raduno 28esimo Pavia Caserma Paolini, nome in codice Io Cero. Quest'anno il 15 e il 16 settembre prende vita la seconda edizione dell'operazione Nostalgia. Quest'anno con un programma interessante che va dal sacro al divertente, le consuetudini dei militari, la vita di caserma, i film dei militari, la cena conviviale, il pranzo e quindi un modo per ricordare sicuramente il passato, non solo nostalgia però perché con occhi più maturi chi ha fatto il militare potrà visitare una città che magari non ha visto in quegli anni dove le preoccupazioni non altre, invece con viste guidate che le porteranno ai migliori monumenti della città che viene riscoperta anche con i figli, con le mogli perché gli anni sono passati e quindi per noi è anche uno strumento di promozione. Naturalmente oggi i veicoli militari di allora non ci sono più nella caserma ma quella che una volta era una gloriosa piazza d'armi, prima di diventare un anonimo parcheggio, sarà comunque animata da veicoli e dalle uniformi dell'associazione Greenliners che vanta numerose partecipazioni a rievocazioni storiche del secondo conflitto mondiale. Che veicoli porterete? Una creazione recentemente rispolverata che è una moto italiana del secondo conflitto, una Sertum, tre moto inglesi sempre della seconda guerra mondiale e la nostra Jeep che non può mai mancare. Oltre ai commilitoni non mancherà anche uno degli ufficiali più amati di sempre, il colonnello Santinelli. Tutti mi chiamano ancora capitano perché il periodo più lungo, no più lungo ma abbastanza lungo, io ho avuto un pregio, una fortuna o una sfortuna che mi hanno fatto sempre quasi comandare, i periodi in cui mi sono riposato, mi sono riposato in un certo senso perché poi ho avuto sulle spalle la ristruttazione delle caserme, i servizi, noi cambiamo, si cambia spesso. Fa piacere, ossia, perché vedi che qualcosa è seminato, se si semina qualcosa si raccoglie. Fano è una caserma che non ha dato mai problemi perché è una caserma inserita nella città. Bene, naturalmente l'evento, la manifestazione è aperta a tutti coloro che vogliono magari così vedere un po' che cosa succedeva in quei momenti perché sabato mattina ci sarà l'alza bandiera, ci sarà una messa nel piazzale, insomma si rivivranno momenti che per alcuni sono stati molto significativi. E rimaniamo sempre in tema di caserma Paolini, però andiamo a Dancona per la caserma Paolini dove si è svolta oggi la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante regionale tra il generale di brigata Gianfranco Carozza e il generale di brigata Fabrizio Toscano. Dopo oltre due anni di permanenza nel capologo dorico, il generale Carozza è destinato a Roma per frequentare il corso di formazione presso l'Istituto Alti Studi per la Difesa, ha ceduto il testimone al generale Toscano che proviene dallo stesso istituto al termine della 69esima sessione di studio. La cerimonia, presieduta dal comandante interregionale dell'Italia Centrale e Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Edoardo Valente, ha visto la partecipazione degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e finanzieri in forza ai reparti delle Marche, del Consiglio di Base e di rappresentanza, anche delle sezioni locali dell'Associazione Nazionale Finanzieri in Congedo. Bene, e adesso cambiamo argomento, parliamo di eventi. a Ponterio di Trecastelli si è conclusa la 18esima Sagra della Goletta, con ottime presenze di pubblico e tante iniziative collaterali nei tre giorni dedicati. Vediamo il servizio di Francesco Salvago con le immagini di Emanuele Renzi ed il montaggio di Thomas Cursini. Conclusa con grande successo la 18esima edizione della Sagra della Goletta a Ponterio di Trecastelli. La manifestazione, promossa dal Circolo Arci a Cervi con il patrocino dell'omonimo comune, ha visto nelle tre giornate dedicate un programma sforzoso di eventi collaterali, a partire dal torneo di Burraco, alle gare di boccetta interprovinciale a 32 coppie, fino alla giornata conclusiva di domenica 9 settembre, nel quale sono state organizzate un raduno di auto, moto, Vespe d'epoca, promosso dal club motori d'epoca di Senigallia e il Vespa club di Fano e di Marzocca. Poi l'iniziativa è proseguita con la gara di Ruzzo, la primo memoria Elso Donati Nazareno Angeloni, nel quale ha visto protagoniste due squadre con le sue rispettive categorie. Infine nel campetto sportivo si è svolta la prima esposizione canina nazionale città, di Trecastelli, dove hanno partecipato diverse razze per contendersi il podio. Non sono mancate in serata musica, ballo e divertimento e la succulenta protagonista della sagra, la goletta. Voglio ringraziare prima di tutto tutto il personale, i ragazzi, i volontari che da dieci giorni lavorano in cucina, nel montaggio, nei giochi, al centro sociale, tutto il personale. Io la voglio ringraziare in modo particolare, perché veramente se non ci fossero loro la festa non si farebbe. Poi voglio ringraziare tutti quegli sponsor che hanno dato anche un piccolo contributo, che credono in questa manifestazione. Bene, dopo il telegiornale andrà in onda frammenti con la Fano di un tempo e a seguire in cucina con lo chef, con le succulente ricette ed uno speciale poi dedicato alla festa del socio della BCC di Fano, che come sempre si è tenuta nel Codma di Rosciano. Questo è il numero in sovrimpressione, 338-4968-250, potete utilizzarlo telefonandoci oppure messaggiandoci tram sms o anche con whatsapp e in più potete segnalarci con fotografie quello che vi avviene attorno. Naturalmente avete a disposizione anche il nostro sito, reporter di strada e anche il numero di telefono fisso per parlare con la nostra redazione. Bene, io mi fermo qui per questa edizione di Occhio alla Notizia. L'informazione torna domani mattina puntualmente alle 7.30 con Occhio ai giornali. Buon proseguimento di serata con i nostri programmi.